buongiorno a tutti oggi è una giornata particolare è la festa della musica per voi per tutti voi perché in questi momenti abbiamo avuto dei momenti ovviamente molto difficile queste ultime mesi questi ultimi settimane è stato per tutti per le famiglie per tutti dei momenti molto difficili per oggi dobbiamo pensare anche a domani pensare al futuro e avere speranza e questo è fondamentale avere speranza come voi sapete una dimissione principale del teatro san carlo come teatro pubblico è di trasmettere la trasmissione è un punto fondamentale del nostro lavoro a partire ovviamente dell'educational ha un senso anche di fare di permettere di entrare nel teatro scoprire la e avere con il san carlo un percorso spesso tutto l'anno purtroppo oggi i teatri sono chiusi quindi non è stato possibile durante questo e questi ultimi settimane di accogliervi all'interno del teatro però questo cambierà io sono convinto perché per noi per il pubblico per tutti i nostri abbonati e anche particolarmente con voi il teatro deve riaprire deve dare nuove emozioni e riflessioni quindi io sono convinto che i giorni prossimi giorni saranno dei belli giorni e con voi all'interno del teatro allora io soltanto io vi auguro veramente una bella festa della musica per tutti voi che questa festa sia bella con l'idea che domani comunque sarà diversa auguri auguri a tutti voi